Tra le tante iniziative intraprese dal neosindaco Miciche, c'è quella relativa all'ospedale di Agrigento in un momento di grande emergenza, presa in comune collaborazione con l'ASPE di Agrigento, con il dottore Zappia e l'assessore regionale alla sanità Razza, che vede l'aumento dei posti letto destinati al Covid-19 passare da 28 a ben 80 unità. Ho sentito parlare anche o invocare anche ospedali da campo perché giustamente la gente è preoccupata per l'aumento dei casi positivi per quanto riguarda il Covid-19, ma perché parlare di ospedali da campo che sono poi sempre delle tente, per quanto attrezzati, sempre delle tente precarie? Ebbene, ho ripetuto giorni fa e lo ripeto ora, grazie al mio intervento con l'assessore regionale alla sanità Razza e il direttore, o meglio il commissario straordinario dell'ASPE di Agrigento, il dottore Zappia, siamo riusciti ad ampliare da ben 28 posti di diregenza ordinaria per Covid-19 a 80 posti per Covid-19, 80 posti di diregenza ordinaria per Covid-19. Io penso che già è un numero eccessivo per quanto riguarda la cittadinanza di Agrigento, però almeno i miei cittadini possono stare tranquilli perché finalmente, in caso di infezione e in caso di ricovero, finalmente il cittadino non dovrà fare il viaggio della speranza cercando un posto libero nei vari nosocombi provinciali o addirittura regionali. Finalmente la mia Agrigento avrà l'assistenza sanitaria che si merita. Il sindaco ha anche firmato l'ordinanza per tumulare le salme che si trovano a Piano Gatta sin dal luglio 2019. Oggi ho firmato l'ordinanza per tumulare quelle salme che si trovano a Piano Gatta nel deposito ben dal luglio del 2019. Ci sono moltissime salme, ma alcune di queste stazionano lì da più di un anno e mezzo. Esiste un regolamento di polizia mortaria che vieta questo. Il sindaco è la massima autorità sanitaria della città. Il sindaco può requisire i loculi a causa di emergenza igienico-sanitaria, perché un peretro non può restare un anno e mezzo non tumulato. Il sindaco può quindi ordinare la tumulazione di queste salme nel rispetto proprio delle stesse salme, nel rispetto proprio dei congiunti che finalmente hanno una tomba dove andare a piangere, dove andare a poggiare dei fiori. Questo nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria, questo nel rispetto della mia autorità come massima autorità igienico-sanitaria della città, questo perché l'ho ritenuto giusto ed è doveroso fare questo dono ai miei concittadini. Provvedimenti sono stati presi anche per la zona di San Leone, per l'osservanza del divieto di assombramento per domenica prossima. Io oggi ho partecipato al Comitato di Sicurezza in Prefettura, assieme anche agli altri organi istituzionali. C'è un divieto di assembramento che impone il decreto del Presidente del Consiglio Conte, ho soltanto firmato un'ordinanza di divieto di assembramento per domenica prossima, dalla fine del Viale Vialeggio, Lungomare, Falcone e Borsellino, fino a Piazza Leggiglia. Divieto di assembramento, così come prevede il decreto Conte. Perché ho fatto questo? Perché domenica scorsa mi sono accorto che in Piazza Leggiglia c'erano assembramenti, ragazzi raggruppati e senza mascherine. Lo stesso all'inizio del Lungomare, Falcone e Borsellino, in prossimità del parcheggio vicino al Parco delle Giostre, anche lì assembramenti, perché la gente va a comprare dove gli ambulanti abusivi che vendono merce contraffatta, la gente quindi va a comprare presso quegli ambulanti e si credono anche lì degli assembramenti. Ecco cosa ho fatto, niente di particolare. Sul Lungomare si potrà fare di tutto, passeggiare, fare sport, ma non si potrà fare assembramento.